Musica Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno organizzando il raduno di Libera al campo sportivo di Scandicci, provincia di Firenze c'è come alternativa alla corruzione umana c'è non soltanto intesa come mafia, eccetera c'è intesa pure come inquinamento morale cioè capito in che senso guarda che non c'è niente di partiti con questo accesso noi siamo assolutamente al di fuori di certi giochi di potere cioè se al limite vuoi fare un salto è simbolico comunque sia ti lascio questo puscolino, la via libera poi magari se le nostre idee le trovi giuste comunque poi tutte le informazioni le trovi su www.libera.it ciao